Che calore ti aspetti da Pescara per i campionati mondiali? La verità è che sto emozionato perché la città è impressionante, la posta in escena della competizione è più bella e penso che Pescara è il migliore sito per fare una grande competizione come la del campionato del mondo di Beach. Penso che la città è più bella e la cancia più buona la spazia è buona e tutte le condizioni per fare una grande competizione e chi è in Pescara. Che idea ti sei fatto del livello della squadra italiana dopo questi primi giorni di lavoro? Questa prima concentrazione è più importante per io conoscere la giocatrice italiana ma nel passato io ho giocato contro l'Italia e conosco bene la squadra, una squadra più forte, un grande cuore e una grande forza. Penso che la motivazione è più alta perché questa competizione in Pescara, in questa grande città è più emozionante, più forte di emozioni e la motivazione è più alta. Per me è un onore stare con la federazione italiana di Palamono ma penso che questo è un grande evento sportivo perché tutte le persone di Pescara puoi avere il massimo livello del Beach di tutto il mondo. L'Italia io penso che con questo cuore, con questa motivazione puoi fare cosa più bonita.